Allora, benvenuti a tutti e grazie di essere connessi all'appuntamento di oggi. Durante questo webinar capiremo come migliorare le performance di un sito con il caching dall'hosting e server dedicati. Allora, oggi siamo in compagnia però dei miei colleghi di Aruba Business Matteo Soavi, CTO e Mauro Baglietti, signor sistemista appunto di Aruba Business. Mauro e Matteo magari vi presenteremo meglio dopo. Comunque vi colgo intanto l'occasione, mentre tutti i partecipanti si collegano, per darvi alcune indicazioni e informazioni. Staremo insieme circa una cinquantina di minuti e gli ultimi minuti finali saranno dedicati alle domande di question and answer. Quindi, se durante il webinar avete delle domande, fateceli in chat che io alla fine del webinar le scelgo naturalmente in base un po' anche a quanto tempo rimane a disposizione. Eventualmente, nei prossimi giorni, riceverete la registrazione, la presentazione e anche le risposte alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere a fine webinar. Per qualsiasi cosa di informazioni di contatto sul webinar ma anche extra, mi raccomando, consultate il sito business.aruba.it o scriveteci alla mail webinar chiocciola staff.aruba.it. Adesso direi di incominciare e lascio la parola al mio collega Matteo. Salve, buongiorno a tutti. Come diceva Lorenza, sono responsabile dell'area tecnica di Aruba Business, la divisione di Aruba che si occupa dei nostri partner e oggi insieme a Mauro, che è uno dei ragazzi del mio staff, un sistemista senior che segue la parte sistemistica sui server di Aruba Business, andremo a raccontarvi un po' di informazioni e a vedere anche dal punto di vista pratico che cos'è il caching e come funziona. Per cui in particolare vedremo che cos'è il caching, come funziona il caching all'interno dei nostri sistemi, i vantaggi del caching e quello che possono essere i vantaggi sono una soluzione su condiviso piuttosto che una soluzione su dedicato dove andremo anche poi come indicato a vedere sul campo che cosa significa e che cosa si può realizzare sia su hosting che su soluzioni su dedicato. Che cos'è il caching? In sostanza il caching non è altro che la possibilità di memorizzare un sotto insieme di dati tipicamente di natura temporanea, nel senso che per storicizzare i dati abbiamo i nostri database, il caching serve per rendere fruibili questi dati in modo da poterli utilizzare in modo più efficiente, quindi i dati sono già disponibili, già elaborati e già recuperati da mettere a disposizione ai nostri clienti. Come funziona il caching? Allora sostanzialmente siccome lo scopo è quello di aumentare le prestazioni, dopo vi faccio vedere anche con un piccolo schemino molto ma molto scientificato, in pratica ogni volta che viene effettuata una richiesta che transa su tutta l'infrastruttura, questa informazione viene memorizzata all'interno di un sistema hardware, tipicamente viene caricato in RAM e attraverso un software questo dato viene reso fruibile alla richiesta successiva, quindi come potete immaginare nel momento in cui una richiesta è già stata evasa, questo può essere usufruito attraverso la cache, nel momento in cui questa richiesta non fosse ancora stata erogata è comunque necessario andare a reperirla facendo tutto il percorso dell'application fino al database per tornare poi indietro al nostro utente finale che ha fatto la richiesta. Per cui è importante ricordare che un sito su cui c'è molta variabilità di informazioni, molte news nuove, è necessario andare a tarare molto bene il meccanismo di cache perché comunque quello che sta in cache sono le informazioni che più vengono richieste dagli utenti. Come funziona questo sistema di cache? Qua abbiamo semplificato con uno schema veramente molto basilare perché taglia fuori, quindi anche dal punto di vista funzionale non è proprio così corretto, però diciamo che è semplice ma rende l'idea. Quindi un utente fa una richiesta, questa richiesta arriva al nostro application server, l'application server, immaginiamo che c'è un WordPress, va a fare le richieste, le query sul nostro database e le informazioni tornano al nostro utente finale sotto forma grafica o quello che ha richiesto. Quando arriva il secondo utente, quello che viene erogato è esattamente la stessa cosa per cui viene fatta la richiesta l'application, arriva al database e così via il terzo, application e database. Questo chiaramente genera più utenti in contemporaneo e più avrò carico sul mio sistema, carico vuol dire necessità di risorse load sui server. Cosa avviene mentre se andiamo a implementare un sistema di caching? A fronte di una richiesta, la prima richiesta viene erogata esattamente nella stessa modalità, ma questa informazione una volta che è stata richiesta viene inserita all'interno del nostro meccanismo di cache, nel nostro motore di cache. A questo punto quando arriva il secondo utente e così anche il terzo, non è più necessario andare ad appesantire l'application server, il database, la query, le informazioni sono già disponibili, quindi vengono molto più velocemente erogate al nostro utente finale. Quali sono i vantaggi evidenti? Un aumento generale delle prestazioni, perché avere un dato caricato in memoria non è necessario di fare accesso ai dischi, di fare query e passare tutti gli strati del mio software, che lì è molto banalizzato, ma in architetture complesse possono esserci N front-end, con N bilanciatori, N tipologie di dischi e di database, perché possiamo avere anche più motori di caching. Quindi in generale comunque un aumento delle informazioni che sono già caricate in memoria. Riduzioni complessive dei costi. Questo non è scontato, però se è tarata bene e il caching funziona correttamente, avendo meno accessi alla parte di database e alla parte di application server, automaticamente ho bisogno di meno risorse, quindi pur andando a inserire un server in più o un servizio all'interno del mio server, ottengo comunque una complessiva riduzione dei costi e del carico sul sistema. Oltre a questo io posso avere prestazioni prevedibili, nel senso che posso andare attraverso dei tool a capire quanto è il carico massimo che può sopportare la mia infrastruttura. Chiaramente non sono sempre preciso al 100% perché poi ci sono le variabilità, però una volta che una pagina è in cache, io posso andare a simulare quanti utenti in contemporanea, quante richieste a secondo, io sono in grado di sopportare con quella mia infrastruttura ed eventualmente decidere, perché magari mi aspetto a fronte di un evento che ci sia un determinato numero di visite, utenti in contemporanea, andare a rafforzare o implementare maggiormente questa mia infrastruttura. Ora, passiamo a quelle che sono le soluzioni che poi andremo a vedere nel specifico con Mauro sul condiviso piuttosto che sul dedicato. Aruba Business offre già un sistema di caching anche all'interno di soluzioni di hosting, ad esempio sul nostro sistema di hosting Cloud Linux basato su Pannello PESC, dove abbiamo la soluzione con Nginx, quindi Apache insieme a Nginx che fa come motore di caching e dà la possibilità di attivare sui nostri domini questo motore di caching e da attivare manualmente, proprio all'interno World2Kit c'è proprio l'opzione che ti permette di abilitare e importare anche quante risorse dedicare a questo caching. Come primo vantaggio, chiaramente, si ha una riduzione del time to piece byte su quelli che sono i contenuti cachati, però, attenzione, essendo una soluzione su condiviso, ci sono anche dei limiti, quindi la cache è condivisa tra tutti i domini presenti sul server e come detto prima, chi ha più visite, chi più usufruisce dei vantaggi di questo caching. E, oltre a questo, chiaramente noi abbiamo parlato di Nginx, ma su soluzione condivisa quella è e quella rimane, mentre sul dedicato è possibile andare a implementare una soluzione variegata, per cui abbiamo tre vantaggi, quindi la possibilità di utilizzare contemporaneamente tempo più meccanismi di caching, quindi implementare una soluzione con un bilanciatore, N nodi, diversi motori di caching, quindi tipologia di motore, risorse di calcolo, quindi posso andare a generare un'infrastruttura che mi permette di avere determinate risorse sul database, determinate risorse sull'application server e sulla parte di caching, andando, soprattutto nel caso di Sega, una soluzione su cloud, ad avere la possibilità di avere la scalabilità sia in orizzontale che in verticale, quindi creando più front-end piuttosto che andando a aumentare quelle che sono le risorse sul singolo nodo. Possiamo personalizzare anche il monitoraggio, come sta funzionando il sistema di caching, quindi vedremo dopo con Mauro che è possibile avere diversi parametri, non solo disposizione dello staff tecnico, cosa che avviene normalmente, ma anche disposizione del cliente, quindi potrà andare a vedere quant'è il carico e come sta lavorando la sua infrastruttura, e la possibilità appunto di effettuare il test di carico per personalizzare, ottimizzare e andare a incrementare e viene l'infrastruttura. Attenzione che esistono anche qua dei limiti, a seconda del motore di caching che si va ad utilizzare, può essere necessario andare a modificare anche il codice, cioè ci sono degli elementi tali per cui a seconda del motore che si va a scegliere non è sufficiente mettere un plugin all'interno del mio WordPress perché tutto funzioni magicamente, ma può essere necessario anche andare a modificare delle pagine inserendo del codice particolare. Bene, a questo punto io avrei concluso questa carrellata su quelle che sono funzionalità, vediamo Mauro che ci fa vedere dal punto di vista pratico come funziona. Allora, andiamo a passare a Mauro la presentazione. Dovresti vederla Mauro? Sì. Ti vedo, perfetto. Buongiorno a tutti, vediamo appunto la parte pratica di quello che abbiamo spiegato in linea teorica, Matteo. Questo è il nostro pannello di Aruba Business che penso la maggior parte di voi conoscerà e dove facilmente si può accedere al nostro pannello Plesk, banalmente cliccando sul tasto accedi al pannello tecnico. Qui abbiamo creato un nostro dominio di testa proprio per dimostrarvi le principali impostazioni della cache. Qui quindi stiamo parlando delle impostazioni per l'hosting condiviso, quindi quello che vi accennava Matteo, l'Engine X. Trovate tutto sotto la voce impostazione di Apache Engine X all'interno della vostra schiera dominio. Quindi, impostazione di Apache Engine X, a parte le prime impostazioni generiche per l'Apash, poi ci troviamo quelle di Engine X. Come è fatto Plesk proprio per cercare di entrare un po' più a fondo del funzionamento per permettervi di capire anche quali sono i vantaggi della cache? Plesk, per la nostra impostazione, è settato in modo che a monte, cioè il primo che risponde alle richieste web dei clienti, è proprio Nginx. Nginx a sua volta gira le richieste ad Apache, quindi un secondo web server, che a seconda delle necessità, quindi se una pagina è dinamica, diciamo, ha bisogno di interrogare il database, piuttosto che fare altre richieste, delega a sua volta dei contenuti ad altri, ad altri, diciamo, partecipanti a questa coda. Quindi viene da sé capire che se riusciamo a fermare questa coda subito a Nginx senza dover coinvolgere Apache dopo di lui, MySQL o altri attori, tutto risulterà più breve e veloce come fruizione di contenuti, come tanto fastby, come performance in generale del sito. Dove andiamo a dire queste impostazioni? All'hosting, qui. Basterà fleggare, di default non lo è, questa spunta che trovate in fondo, quindi abilitare la memorizzazione nella cache Nginx. Qui vi si propongono subito alcune opzioni abbastanza importanti perché spesso viene abilitata ma senza poi andare a impostare i valori e bisogna fare attenzione perché a seconda della tipologia del sito questi valori andrebbero modificati in maniera radicale. La dimensione della cache è difficile inizialmente comprendere quanto sia il valore corretto, però diciamo che normalmente non c'è bisogno di un gran quantitativo di memoria per la RAM. Potete partire tranquillamente con 128 MB di RAM, 64 MB è un po' poca, però a meno che non si tratti di un e-commerce, di un sito con davvero tante pagine, tanti contenuti a cacheare, la cache comunque ottimizza molto il contenuto e quindi già un 128 MB di RAM, però nulla vi vieta di salire oltre se pensate che questo non può bastarvi. Il timeout cache, ecco, questo forse è l'aspetto più importante. Di default, Plesk mette 5 secondi come parametro base di default, ma diciamo è pensato per siti che hanno centinaia di visitatori contemporanei, perché questo 5 secondi cosa sta a indicare? Sta a indicare che se un utente arriva, quel contenuto verrà messo nella cache, ok, quella stessa richiesta. Solamente se arrivano altri utenti entro i 5 secondi successivi che richiedono la stessa, che fanno la stessa richiesta, allora gli verrà fornito questo contenuto in cache, altrimenti tutto verrà rifatto perché secondo lui questa cache, perché gli abbiamo detto noi ovviamente con questo parametro, è obsoleta. Quindi vada a pensare che nella maggior parte dei domini dove non abbiamo decine o centinaia di visitatori contemporanei, questo valore è un po' troppo basso. Qui lui permette di mettere addirittura minuti, ore o giorni. Qual è il risvolto della medaglia? Perché uno allora verrebbe da dire metto 5 giorni e non ci penso più. Qual è il risvolto della medaglia? Il risvolto della medaglia è che se andate ad aggiornare dei contenuti statici, attenzione qui parliamo di contenuti statici con Nginx, non parliamo di query sul database, non parliamo di pagine PHP, parliamo di contenuti statici, quindi immagini o altre richieste che possono essere proprio salvate. File. Se voi aumentate troppo questo tempo, succede che potreste trovarvi nel caso in cui voi aggiornaste un contenuto statico, per esempio cambiate un'immagine di un prodotto su un e-commerce, lasciando lo stesso nome, lasciando lo stesso percorso e tutto, e per il tempo che voi avete specificato qui, in realtà voi non lo vedete sul browser, perché la cache è ancora valida e quindi continuerete a vedere il contenuto vecchio. In caso di dubbi, ricordatevi sempre che potete venire disabilitare la cache Nginx da qui e salvando, facendo applica, e poi riabilitarla facendo applica, questo porta semplicemente a svuotare la cache e a un riavvio di Nginx, che vuol dire un down di qualche secondo del vostro sito. Troverete per davvero un secondo o due il riavvio del server, ma nulla di critico, quindi siete liberi di farlo o in caso di qualsiasi dubbio, fatelo senza alcun problema. La terza opzione, richieste cache con cookie, è un'opzione molto delicata, diciamo dovete maneggiarla con cura e solo se sapete quello che state facendo, cioè tipicamente le richieste con cookie non vengono cacheate, proprio perché se hanno un cookie, diciamo la buona prassi vuole, che indica che quella richiesta è univoca per quell'utente, ok? Però potete decidere che alcuni cookie, magari in caso in cui dei plugin lo mettono a prescindere, per esempio quello della privacy, adesso che bisogna accettare le condizioni iniziali o quant'altro, vi mettono a prescindere sempre un cookie, ma questo cookie non vi interessa, anche se è presente, non vi interessa che venga fornito un contenuto fresco, ma comunque cacheato va bene, allora dovete specificare qui il cookie che volete sia ignorato e quindi cacheato comunque. Se voi non specificate qua niente, ogni volta che c'è un cookie, la richiesta non verrà servita dalla cache, ma farà tutto il giro automatico. Disabilità cache per ubicazioni, anche questa è una cosa molto importante, io qui vi ho fatto un esempio, se è un sito WordPress, sicuramente dovrete mettere questa dicitura che appunto molti di voi sapranno che è il pannello di admin, l'URL standard per il pannello di admin di WordPress, cosa gli stiamo dicendo? Che qualora nell'URL che noi richiamiamo ci sia questo contenuto, lui non farà cache dei contenuti, ovviamente viene da sé che nel pannello di backend non vogliamo vedere niente di cacheato, ma tutto fresco in modo che le operazioni siano il quanto più veritiere, non vedere contenuti che magari non sono più quelli reali. Tutto il resto, allora di default noi consigliamo di mantenerlo così, però appunto sono cose che sono abbastanza parlanti, quindi potete decidere voi se non fare contenuti di cache quando qualcuno specifica nella richiesta no cache oppure ci sono intenzioni di autorizzazione oppure proprio c'è una get col parametro no cache, però diciamo sono finezze che di norma questa impostazione non ha grosso senso modificarlo, serve più agli sviluppatori, però appunto così facendo permettete di bypassare la cache e uno lo specifica da browser. Anche qui restituisci il record della cache obsoleti diciamo che questo è un buon compromesso quello che lui propone di default, cioè se c'è un 500 restituiamo il valore della cache, mentre se c'è un 400 no, così vediamo proprio l'errore che abbiamo. Oppure ecco, restituisce quello che c'è nella cache anche se obsoleto mentre la cache si sta aggiornando. Parliamo di un aggiornamento molto rapido e veloce, quindi non vi accorgerete neanche probabilmente di questo aggiornamento della cache. Questo è quanto riguarda la parte hosting. Qui voi potete avere questi settaggi. Ecco, non l'ho detto prima, l'ho saltata, la chiave cache. La chiave cache è un valore molto importante. Lasciatela, lasciatela, questa di default va bene, ma il senso è è importante che questa chiave sia un valore univoco. qui Plesk la crea in maniera dinamica, quindi prendendo lo schema con cui viene fatta la richiesta, il metodo, l'host, quindi il server su cui viene fatto, e l'uri. Così facendo lui genera un valore univoco per ogni richiesta. Questo è molto importante perché fa sì che Nginx non confonda delle richieste tra loro. Se voi qui cancellate questa chiave cache, lui potrebbe mischiare dei contenuti delle cache, quindi per esempio farvi vedere immagini al posto di altre che magari si chiamano nello stesso modo perché l'unico suo riferimento sarà appunto il nome del file. Quindi ecco, di buona norma non toccatelo, se proprio volete toccarlo è importante che mettiate un valore univoco, quindi con delle variabili come fa Plesk. Solo una parentesi veloce, abbiamo giusto per entrare nelle impostazioni di Nginx che sappiate, potete fare ancora per migliorare leggermente le performance anche se non si tratta di una vera cache, avete la possibilità di servire i file statici direttamente da Nginx, quindi andare a dirgli questi file invece che farli prendere ad Apache dal disco li prendi direttamente da Nginx. Vi raccomandiamo sempre soprattutto se avete altri plugin che fanno cache tipicamente su WordPress o quant'altro di fare una prova una volta impostata la cache o comunque toccati questi parametri perché diciamo mettete un attore davanti al vostro codice che in caso di Nginx è sicuramente poco influente cioè lui avrà dei contenuti statici e quant'altro però è capitato in caso di alcuni plugin particolari che richieste poi potessero generare dei loop o quant'altro che andavano a inficiare sul funzionamento quindi ecco quando attivate la cache vi consigliamo sempre di fare un test completo un giro completo sul vostro applicativo magari soprattutto se è un e-commerce un acquisto arrivare fino alla fine e vedere che tutto vada a buon fine però diciamo che è molto semplice dal punto di vista dell'hosting Nginx l'importazione si può fare Mauro anche dal Wordpress Toolkit giusto? sì allora anche dal Wordpress Toolkit sì allora in realtà io sono andato diretto qui perché Wordpress Toolkit non fa altro che rimandarvi qui quindi quello che voi trovate nel Wordpress Toolkit vi faccio vedere all'interno è un flag appunto che vi dice di memorizzazione della cache Nginx è questo quando ve lo attivate se poi voi cercate di andare nelle impostazioni con questo tastino lui non fa altro che rimandarvi alla stessa pagina dove eravamo prima quindi ecco dico sappiate che il vero cuore delle impostazioni è questo poi al di là di quello che voi andate a digli in Wordpress Toolkit ok passiamo invece al dedicato io direi che è un po' più ampio come discorso allora il dedicato ovviamente ha questa funzionalità di Nginx ma oltre a questo ovviamente si apre un mondo con tutti i sistemi di cache più diffusi ovviamente che noi mettiamo a disposizione allora nei dedicati mentre l'hosting diciamo è gestito completamente da noi non c'è nessun'altra opzione i dedicati ovviamente possono essere gestiti da noi o direttamente in toto da voi gestiti da noi vuol dire appunto che noi vi prepariamo l'infrastruttura ve la manteniamo e vi garantiamo il funzionamento della stessa per garantire questo funzionamento è appunto per per potervi dare supporto in una maniera migliore possibile abbiamo identificato dei software e degli standard a cui noi ci rifacciamo per cioè vi rendiamo disponibili per poterli utilizzare come cache quello che va per la maggiore diciamo mmcache abbiamo clienti però anche con radis se volete non c'è nessun problema per parlare su radis e altri clienti anche con varnish quindi diciamo che abbiamo toccato i tre motori principali di cache anche se diversi tra di loro che potete richiederci qui sto parlando delle soluzioni manage ovviamente quindi quelle gestite da noi ovviamente se voi decidete di fare il vostro server root potete decidere di installare qualsiasi applicativo per questo demo utilizzerò il nostro private cloud non so quanti di voi lo conoscono diciamo è la soluzione ancora più evoluta rispetto alle macchine virtuali diciamo che in scala c'è l'hosting quindi dove uno acquista semplicemente lo spazio web per il proprio dominio poi si passa a una macchina dedicata nostre WPS o PRO dove appunto cominciate già avere un vostro server dedicato dove tutto sarà all'interno dello stesso server o in alcuni casi sui PRO ma diciamo meno frequenti si potrete avere anche più macchine ognuna per ogni servizio oppure bilanciare il carico e questa è la soluzione diciamo ancora un po' più ampia dove vi permette non tanto di andare a acquistare macchine ma ad acquistare risorse anche questa soluzione può essere managed o diciamo totalmente città da voi qui cambia solamente che voi acquisterete le risorse come vedete qua per esempio in questo test abbiamo 16 giga di processore 32 giga di ram e 500 giga di disco acquistete le risorse e creeremo le macchine andando ad assegnare queste risorse questo fa sì che ovviamente questa sia la soluzione più dinamica in assoluto perché voi una volta che voi avete le vostre risorse potrete andare a assegnare le risorse alle macchine come meglio preferite anche in base al momento in cui vi trovate cioè avete bisogno di dare più risorse al main cache piuttosto che al web server o al database qui lo fate in maniera semplice ho preparato un test dove ho creato e faccio delle web app quattro macchine per farvi vedere un'infrastruttura già abbastanza complessa che può essere un buon punto di partenza per un sito parecchio visitato o comunque con parecchio carico qual è la differenza sostanziale che dice è il momento di cambiare tra il passare da una macchina singola con tutti i servizi a bordo a una soluzione dedicata sicuramente la mole di visitatori il carico inteso in quel senso non è che passando in una soluzione con più server il vostro sito si velocizza non è quello l'obiettivo di avere più macchine anzi probabilmente visto che ci passa una comunicazione TCP tra di loro comunque via socket la comunicazione rischia di essere leggermente più lenta però abbiamo parliamo ovviamente di decimi di secondo o centesimi di secondo ma abbiamo un netto beneficio quando le richieste contemporanee cominciano a diventare numerose a quel punto delegare e dividere i carichi tra i server porta davvero benefici sia in termini di scalabilità che così è pressoché infinita che in termini di performance pura perché una macchina prima o poi arriverà al proprio tetto che è quello della scalabilità verticale diciamo quindi delle risorse singole qui quindi abbiamo creato per esempio per farvi vedere un esempio ma ripeto potrebbero essere diverse un Plesk che rappresenta appunto il web server frontale con Nginx proprio come è nell'hosting un MySQL separato quindi Plesk interroga MySQL ma non più dentro se stesso quindi separato anche qui cominciamo a dare dei benefici sui siti che con molte visite vanno a fare tante richieste sul database perché appunto tutto è dedicato su un'altra macchina e non va ad appesantire la stessa macchina del web server un Memcache quindi anche qui separato Plesk nel caso di Memcache Memcache e Redis vengono interrogati dal codice faccio questa questa premessa perché almeno è un po' un po' più che la situazione cioè sarà il vostro codice banalmente se usate Wordpress o altri CMS avrete dei plugin scritti già pronti per l'utilizzo di cui poi vi ne mostrerò uno che saranno loro la discrimine e a decidere cosa scrivere in cache e quando richiamarlo mentre nel caso di Varnish o altre situazioni invece la cosa è un po' diversa lui il sistema sta davanti gestisce lui questa questa decisione diciamo nella maggior parte dei casi e poi nulla vieta che andate così a fondo a decidere manualmente però diciamo nel tipico utilizzo non è questo decide lui cosa cosa cacheare se proprio utilizzerete dei plugin spesso vengono usati per andare a pulire la cache presente in Varnish o andare a refreshare appunto dirgli questo contenuto è cambiato quindi cambiamolo però di norma Varnish è un po' più diciamo autonomo nel decidere cosa fare con i contenuti però diciamo che la sostanza poco cambia però è importante capire che Memcache e Redis è il vostro codice che decide Varnish solitamente no ok Plesk allora questo è un esempio di vediamo se mi ha lasciato loggato ok e ho creato un sito di test per farvi vedere appunto le impostazioni qui uguale a prima l'interfaccia nuova impostazioni di Apache Engine X trovate la stessa identica cosa per quanto riguarda la cache Engine X quindi potete abilitarla come come volevamo e diciamo che anche qui non dovrebbe andare a dare fastidio ai meccanismi di Memcache e di Redis perché appunto parliamo di contenuti statici ecco avrebbe poco senso a mio avviso attivarla in caso di Varnish perché ovviamente lui fa tra le sue peculiarità appunto quello della caching di contenuti statici quindi diciamo che sarebbe un po' un duplicato anche lì in caso di Varnish ovviamente sarebbe necessario un nostro intervento a meno che voi non siete esperti di Varnish per le prime configurazioni e lì appunto si andrebbe a definire chi dei due ma a sto punto Varnish farebbe questo gioco dei contenuti statici in caso invece di Memcache o Redis o altri contenuti o altre cache di questo tipo sicuramente Engine X può dare una mano per tutti i contenuti statici senza pesantire il server di cache come dicevo appunto via codice quindi dove andiamo a dire al nostro codice di usare Memcache in questo caso accedendo al pannello WordPress potete farlo qui da WordPress accesso io l'ho già aperto ma comunque è la stessa cosa noi consigliamo di utilizzare un plugin ma ripeto è solo un suggerimento qualsiasi plugin che vi permetta l'utilizzo di Memcache abbia questa opzione di fatto va bene perché cosa fa non fa nient'altro che decidere quale contenuto mettere in cache e andare a dire al server Memcache tieni questa informazione e sarà lo stesso software a dire poi ridammi quell'informazione perché so che tu ce l'hai ed è ancora valida in cache o se ce l'hai chiede se ce l'ha ed è ancora valida e a quel punto la restituisce senza dover fare tutto il giro che c'eravamo dati prima nel caso del nostro plugin noi per esempio consigliamo di mettere V3 Total Cache V3 Total Cache lo potete installare normalmente dai plugin di Wordpress piuttosto che dal Wordpress Toolkit vi permette anche qui di configurare dalla versione plugin dalla sezione plugin i vari plugin io qua l'ho già installato quindi me lo trovo sotto la voce performance ok performance abbiamo questo vi chiederà un wizard iniziale però nulla di complicato adesso vi spiego solo diciamo le macro configurazioni che servono per farle funzionare poi come tutti i plugin che lavorano quindi a livello di codice sono ricchi di personalizzazioni dovrete valutare voi o con dei test o se arrivate proprio a conoscere il vostro codice così a fondo quale di queste opzioni può giovarvi o meno ok cominciamo però dalla base che è quello per far funzionare questa diciamo il plugin allora lui si presenta così inizialmente dovete andare sicuramente in general setting nella scheda general setting lui comincia a dirvi ok abbiamo diversi tipi di cache qui io parlo del plugin v-total cache però diciamo che non si distanziano molto gli altri plugin da questa logica di funzionamento potete avere qualche opzione più qualche opzione meno ma queste sono fondamentalmente le opzioni allora il page cache ecco uno dei più importanti appunto è l'abilitare la cache proprio per le pagine semplicemente flaggando o meno il flag enable andrete ad abilitare questa funzionalità attenzione che di default il metodo così come se voi questo plugin potete installarlo sul sull'hosting non avrete l'opzione memcache avete l'opzione abilitata avrete l'opzione disk ok quindi cosa vuol dire che di default anche se non volete usare memcache in questo sito potete usare la cache tv3 total cache ma i contenuti verranno scritti sul disco come vi spiegava prima teo ovviamente il fatto di utilizzare il disco ovviamente sempre meno perché ormai i dischi sono ssd perché le performance sono quanto ma sicuramente sarà meno performante rispetto a memcache che va a utilizzare invece la ram per memorizzare questi contenuti soprattutto ripeto non tanto in carico singolo cioè non aspettatevi miglioramenti stratosferici su una richiesta cioè il vostro sito è in test fate una richiesta prima poi abilitatemi in question e fate una dopo non aspettatevi un grosso cambiamento anzi addirittura a volte potreste avere un lievissimo peggioramento della situazione perché soprattutto inizialmente lui sta imparando apprendendo quello che è la cache e sta inserendo del contenuto nel nuovo diciamo nel nuovo database che si fa memcache ma la differenza sostanziale è quando avrete molti più utenti contemporanei allora lì vedreste davvero la differenza comunque scegliete memcache lo salvate e questo vi servirà per il futuro qualora pensiate che ci sia un contenuto che è sciato che non è quello corretto il memcache non si è accorto che è che è scaduto potete premere anche purge cache che trovate qua o trovate anche nella dashboard qui andrete a fare il purge quindi a svuotare la cache solamente della page cache e non delle successivi che vediamo invece nella dashboard vedremo che potete farlo di tutto in maniera veloce per non per non diciamo diventare matti a capire quale contenuto è cacciato quale parte del memcache quale parte del v3 total cache ha cacciato quel contenuto che magari vi sta dando problemi cioè vedete un contenuto non aggiornato o che vi aspettate in maniera diversa minify il minify ah scusate prima una parentesi una volta abilitato il page cache è importantissimo andare a definire il server memcache dove lo fate? qui avete il dettaglio di configurazione per ogni cache abilitata quindi entrate in page cache io vabbè qui ho fatto delle modifiche ma non mi interessa salvare in questo momento e tralasciando per un attimo tutte queste impostazioni che vi dico guardate magari dopo ci facciamo se abbiamo un po' di tempo facciamo una breve carrellata ma il parametro fondamentale scendendo che non capisco perché l'abbiano messo in fondo perché è quello più importante è questo cioè il memcache host name port io qui come vi dicevo sono in una soluzione multi server quindi ho creato il mio server con questo indirizzo IP ci parlano in rete locale appunto i due server e quindi devo andare a dire a v3totalcache il servizio di memcache lo trovi a questo IP su questa porta quindi lo dovete mettere specificare l'IP alla porta se il servizio memcache è locale ovviamente mettere te 127.001 avete un un comando di test in modo che siete sicuri che appunto tutto funzioni e che quindi il sistema di memcache stia davvero funzionando perché se questo fallisce non vi accorgete ma non state traendo benefici da da questo configurazione da questa configurazione qui altre configurazioni nel nostro caso non servono potete decidere le persistent connection noi vi consigliamo di lasciarle come default tutto questo questa opzione in caso di vogliate usare dei server memcache esterni o comunque delicati magari per contenuto potete decidere di usare un'autenticazione a priori qui in questo esempio noi siamo in un private cloud quindi in un ambiente completamente isolato dal resto del mondo parliamo su una rete locale come vedete quindi non abbiamo neanche il servizio pubblico quant'altro e quindi abbiamo detto il servizio memcache in questo caso ripeto è senza autenticazione nulla vieta di abilitarlo tanto viene fatta in fase iniziale ecco questo è un parametro invece importante qui avete i lifetime e che quindi va a indicare quanto la cache di default tiene i contenuti validi questo vuol dire che a prescindere che un contenuto sia variato o meno lui dopo questo periodo considera il contenuto non valido quindi per un po' più o meno lo stesso discorso che dicevamo prima con i 5 secondi di Nginx più questo valore sarà ampio in questo caso non dovreste molto preoccuparvi se il contenuto dietro cambia perché lui si accorge e va a refresciarlo qual è il risvolto della medaglia in questo caso che più questo numero è largo più avrete bisogno di memoria perché verranno continuamente aggiunti oggetti senza eliminare più vecchi nel vostro server in questo caso server condiviso ma anche se fosse stato server dedicato diciamo a se per memcache quindi cosa succede per esempio in questo caso io in memcache vedete ho dato 12 giga di storage ma questo interessa meno una cpu perché tipicamente non impiega molta cpu memcache nel suo servizio e 2 giga di ram 2 giga di ram vuol dire che tendenzialmente qui io andrò a dire a memcache che al massimo avrà 1 giga di ram 1 giga di ram è poco è tanto anche qui a seconda del numero di contenuti che voi mettete e a seconda del numero del tempo che volete lasciarli fare questo soprattutto sulle soluzioni dedicate cioè andare a stimare quanto vi serve su questo è sicuramente un lavoro di ottimizzazione che facciamo facciamo in è difficile fare a priori prima che il server prima che il dominio o i domini siano pubblicati davvero sul server perché ci rende conto davvero di quanto il codice vada a interagire su questi parametri solamente quando il server è in produzione però appunto nulla vieta e adesso vi faccio vedere anche appunto forniamo anche un sistema di statistiche in caso di private cloud quasi in maniera diciamo diciamo quasi sempre forniamo questo sistema di statistiche in caso di server come server pro su richiesta però comunque vi diamo un sistema per verificare appunto l'andamento della vostra cache ma nulla vieta appunto di entrare in questo in questo server in caso di carico e andare proprio allora nella macchina virtuale memcache ok e digli guarda andiamo a cambiare la quantità di ram quindi vado proprio a modificare vedete qua c'è una ram io vado a modificare dico vediamo qui esatto ho aggiunto la calda memoria vado proprio a digli no da 2 giga di ram che avevo inizialmente passo ai miei 4 giga ok 14 4 giga ok adesso avveno un salvo perché sennò vedremo girare la rotellina in questo caso perderemo soltanto tempo e quindi vado ad aumentare la ram alla macchina e di conseguenza posso dire il servizio invece che a un giga passiamo a 2 3 4 quanto ce ne servono quello sistema di munizzering che vi accennavo è questo ed è muni è questo scusami ma questo è appunto quello che dicevamo quindi la possibilità in modo dinamico e veloce di scalare le performance quindi in questo caso magari ci si aspetta un evento abbiamo la possibilità di aumentare la quantità di ram sul singolo nodo nulla ci vieta di affiancare alla soluzione implementata magari sulla parte di frontend un bilanciatore con più application server affiancare più motori di caching su una soluzione dedicato è possibile fare tutte queste implementazioni in modo molto semplice e veloce perché in realtà è dato dal mondo cloud la possibilità di avere questa flessibilità cosa che invece difficilmente potresti fare su un server fisico però quello che vuole dire Mauro è la scalabilità di risorse di un singolo server ma si può fare anche una scalabilità verticale andando ad aumentare il mobile data esatto se qui ho appunto ho fatto una soluzione già abbastanza non dico complessa però è già un buon livello insomma non si è da strutturare la tua vita nulla vieta che qui noi ci mettiamo il cliente con parecchio carico ci può aggiungere un H proxy per esempio il tipico bilanciatore al frontend con più database dietro al Blesk o più sistemi varnish o più websemi insomma quello che è poi l'applicativo del cliente vuole diciamo è pensato e il carico del cliente viene effettuato un'analisi in base a quelle che sono richieste al cliente si va poi a fare una taratura di quelli che sono i motori corretti da utilizzare le risorse corrette da utilizzare ma poi comunque effetto il corso d'opera ci sta che ci possa essere necessità di aumentare o diminuire in alcuni casi in realtà il cliente preferisce implementare un'infrastruttura che gli permetta di avere dell'agio e poi ci si rende conto che c'è bisogno di diminuire le risorse perché il sistema funziona bene è più chiaro anche questo esatto quindi ecco esatto cloud è sinonimo di scalabilità di flessibilità quindi sia crescendo che riducendo le risorse quindi memcache moonin allora questo è il pannellino che noi mettiamo a disposizione per farvi rendere conto di come sta lavorando memcache su cui prendete un po' con le pinze è proprio un test quindi sarà molto scarico qui io ho installato qualche giorno quel plugin per verificare vedete che qui ho due connessioni al massimo contemporanee oggi con un picco di due quattro una media ovviamente quindi avrà fatto un picco di tre quattro connessioni qui ho lo storico della settimana il numero di oggetti in cache vedete che nonostante il sito è banale cioè un wordpress totalmente con la pagina di test diciamo benvenuto ho fatto ho lanciato uno stress test per farlo lavorare un po' e vedete che lui è arrivato in alcuni momenti a mettere 20 oggetti nella cache parliamo qui parliamo di avere due io qui avevo due pagine quindi gli oggetti potrebbero essere query verso il database CSS ecco vi faccio vedere solo questo finisco e poi vi spiego gli oggetti questo è importante perché appunto vedete le connessioni gli oggetti in cache e qui quello che vi dicevo prima la RAM in questo caso io con questo piccolo utilizzo sto usando 19-20 mega di RAM ok ma col crescere del sito con l'utilizzo vedrete che sali parecchio e qui quando arriverete diciamo al livello che c'eravamo abbiamo concordato per esempio un giga due tre vedrete che si ferma e lì allora sarà il segnale che vi dicevo prima per chiederci l'aumento se manager mentre fremo noi se no potrete essere del tutto autonomi l'aumento della RAM del servizio per permettervi di sfruttarlo ancora meglio tutte le altre statistiche non sto a spiegarle sono le latenze dei dischi l'utilizzo dei dischi l'utilizzo della memoria magari con l'unica cosa che vi interessa un po' l'utilizzo della memoria proprio pura del sistema eccolo qua in modo che vi rendete conto se la RAM della macchina basta o meno come vedete qui la RAM della macchina è sufficiente perché la maggior parte è un used su due giga abbiamo una media di un giga e quattordici non usata però ovviamente la macchina è completamente scarica faccio solo l'ultima premessa che è forse quella più importante perché molti ce lo chiedono nel general setting appunto c'è questo page cache c'è il minify questo da utilizzare con attenzione a seconda del proprio tema o quant'altro perché va a ridurre i css e i javascript quindi verificate sempre che tutto funzioni l'op code va bene che però non usa memcache il database cache ecco questo è importante anche qui se volete cacheare le richieste database anche qui abilitate scegliete memcache e andate nelle impostazioni database a dirgli anche qui sempre qual è il memcache anche qui vedete potete avere due server memcache addirittura divisi uno per le pagine uno per questo va bene arriviamo proprio a carichi davvero importanti per arrivare a fare una considerazione del genere però potete usare benissimo lo stesso lui ecco vi faccio solo vedere è impostato perché quando davvero importante il database ci capita spesso quando il vostro sito è poco ottimizzato dal punto di vista del database lasciamo perdere magari chi utilizza ancora tabelle ma ISAM per qualche motivo strano ovviamente consiglio di pensare in ODB prima possibile ma magari i query non fate con chiavi giuste o join con catenate insomma il database quando un'analisi nostro del vostro programma vi dice guarda il collo di bottiglia del tuo sito è il database perché ci sono query che ci mettono due secondi tre secondi quindi immaginate ogni richiesta ogni pagina perde due secondi per fare una query questo può aiutare perché se voi andate a casciarlo quella richiesta fatta sicuramente avrà dei tempi di risposta decisamente più bassi anche qui potete impostare la lifetime della cache e del diciamo del cestino del garbage collection quindi dopo quando verranno eliminate ecco vi faccio notare subito che non è niente di pericoloso perché lui già di default dice quando non non vado a fare caching della query ovviamente quando trovo un insert quando trovo un delete quando trovo un update cioè tutte tipicamente lo fa solo sulle select o su o su diciamo query che non vanno a impattare sulle modifiche del database o comunque sono tipicamente lettura potete è tutto personalizzabile qui adesso non purtroppo vedo che siamo già a circa 50 minuti di webinar e quindi non vado oltre nel farvi vedere tutte le specifiche anche perché come vi dicevo all'inizio è proprio particolare cioè nel senso che dipende molto dal vostro codice quale parametro di questi può portarvi beneficio o meno l'ultima cosa e poi ripasso la la palla diciamo a Lorenza per eventuali domande o insomma per tutte le informazioni qui nella dashboard quello che vi dicevo prima avete il tasto per svuotare tutte le cache o solo quella di memcache o l'opcode cache quindi potete farlo direttamente da qua per tutto ho un problema vedo un contenuto che non è aggiornato ho un dubbio che sia quello senza disabilitarlo magari subito in prima tutto posso andare a dire pulisci e vedo cosa succede eccomi potete essere stato abbastanza daustivo anche se ce ne sarebbe probabilmente per davvero per molto no no molto chiaro Mauro qua l'elemento importante che dobbiamo ricordarci è che intanto che siamo in conclusione noi possiamo aiutare i clienti in questa analisi quindi progetti di questo tipo dal più semplice per cui può essere che vada bene anche una soluzione sull'oste piuttosto che sul nostro cloud pro dove comunque è possibile implementare questa infrastruttura anche se con risorse più limitate perché c'è un numero però se già creare dei progetti anche avanzati noi vi aiutiamo in questo tipo di disegno infrastrutturale per capire quali sono le soluzioni corrette da implementare poi nella maggior parte dei casi il default può andare bene in alcuni casi è necessario trarre bene noi Lorenzo avremo concluso se ci sono un po' di domande sono arrivate intanto grazie mille degli vostri interventi e grazie a tutti dell'attenzione nuovamente allora abbiamo ancora un pochino di tempo siamo proprio giusti giusti nell'orario che ci eravamo dati quindi vado vado veloce vediamo quanto riusciamo a farne ne sono arrivate diverse allora la prima nella soluzione su dedicati posso mettere più domini sullo stesso server o una soluzione monodominio io penso che questa debba rispondere Matteo quindi Matteo lascio a te la risposta allora diciamo in linea generale assolutamente sì nel senso che non c'è nessun limite nel numero dei domini che si può mettere su un server soprattutto quando si parla di una soluzione dedicata chiaramente dipenderà dal carico che genera il singolo dominio perché poi non avrebbe senso andare a aumentare di molto le risorse andando ad aggiungere più domini sul stesso server ma può avere senso comunque differenziare soprattutto su una soluzione come vi ho visto prima del private se ho condizioni di domini particolarmente visitati può essere corretto suddividere anche il rischio dal punto di vista della soluzione però diciamo mediamente non è non è non è non è un vincolo ecco non è un vincolo ok allora direi di passare alla prossima è consigliato facciamo fare a Mauro giusto sì direi di sì infatti ne sto scegliendo una che secondo me alla quale dovrebbe rispondere lui è consigliato l'utilizzo di server in cloud o su fisici Mauro questa è tua allora sicuramente allora se stiamo parlando appunto di un sistema di caching allora la soluzione sarebbe da prediligere quella in cloud per quello che vi dicevo prima della flessibilità il fatto di poter dire crescere e tornare indietro con le caratteristiche con le risorse a seconda del carico e poter essere dinamici ovviamente però certamente la cosa più importante è che sia interamente o fisico o cloud cioè fare un po' in fisico un po' in cloud mi viene da pensare che possa penalizzare questi meccanismi di cache dal punto di vista della comunicazione cioè ricordiamoci che stiamo parlando di lassi di tempo davvero minimi cioè parliamo di decimi centesimi di secondo e quindi se io ho un server fisico che poi deve andare a parlare con l'infrastruttura virtuale che per quanto possa essere nel data center non è mai come se fosse sullo stesso host e magari mi collego solo aggiungendo una cosa appunto parlando di stesso host nel private cloud che vi ho mostrato prima una delle impostazioni secondo me più importanti quando andiamo a fare dei lavori così minuziosi così di ottimizzazione puntuale è la possibilità di scegliere di l'affinità degli host quindi posso andare a dire attenzione il web server e il servizio di cache e anche il database direi visto che comunque sono tre servizi che devono lavorare bene insieme mantenemeli sullo stesso host e questo lo faccio nel private cloud dicendo imposto il criterio di affinità quindi vado a dire web server main cache e mysql stesso host quindi diciamo che la comunicazione è molto veloce perché non esce neanche non ha bisogno di percorrere alcuna strada per quanto le latente siano pur minime però in questi in questi casi fa davvero differenza così come concludo fa la differenza se voi impostate un sistema di cluster del database non avere il database sullo stesso host quindi un host una macchina su un host e un'altra su un altro in modo che malaguratamente dovesse succedere qualcosa un host voi avete il servizio in piedi senza alcun problema senza alcun tipo di down in nessun momento spero di aver risposto alla domanda penso proprio assolutamente di sì allora passiamo all'alta Matteo una soluzione che sfrutta il caching può funzionare anche se configurata nello stesso server funziona sicuramente tant'è che come abbiamo visto nella soluzione sullo hosting il condiviso il meccanismo di caching è a bordo dello stesso server dove si trova anche il database e la patch è chiaro che si perde la possibilità di definire risorse dedicate più nello specifico per il diverso strato applicativo però funzionare funziona assolutamente ok e allora io direi fare l'ultimissima se siamo veloci anche nella risposta riusciamo anche a essere nei tempi allora per Mauro ho un e-commerce basato sul e-commerce ho letto che Varnish potrebbe essere una soluzione per aumentare le performance è corretto? sì anche se diciamo il discorso qui appunto è molto ampio va visualizzato cioè dobbiamo guardare un occhio al codice vedere come è impostato diciamo come i plugin che si utilizzano in WooCommerce quindi parliamo di Word sicuramente diciamo che male non gli fa la peggiore situazione potrebbe essere che non lo sfrutta pieno che non si ottengono i benefici sperati però se configurato correttamente diciamo che qualche contenuto sicuramente lo casca dire quanto bisogna analizzare il codice e diciamo tararlo insomma però sicuramente male non gli fa bene allora direi che abbiamo risposto ad alcune delle domande che sono arrivate ribadisco anche ora che comunque vi verranno inviate nelle prossime settimane la registrazione le slide e le risposte alle domande delle quali non siamo riusciti a rispondere ora quindi io vi saluto e vi ringrazio di averci ascoltato mi raccomando seguite la pagina web e la pagina LinkedIn di Aruba Business grazie Matteo e Mauro direi alla prossima buona giornata buona giornata buona giornata grazie a tutti